Erano chiaramente come sempre molto affamati, assetati e soprattutto viaggiavano allo stretto. Erano stipati in due trasportini dove respiravano a fatica costretti a viaggiare centinaia e centinaia di chilometri nel vano bagagli di un autobus. A trovare e a salvare fortunatamente questi nove cuccioli è stata la polizia stradale di Arezzo. Lo scorso weekend gli agenti erano intervenuti nei pressi della stazione di Lucignano Ovest. Erano stati chiamati da un automobilista che aveva sentito provenire dal vano portabagagli di un autobus con targa rumena fermo in sosta, guaiti, insistenti e disperati. Una volta aperto i poliziotti con molta sorpresa hanno trovato due portantini in cui erano stipati i nuovi cagnolini che respiravano a fatica. I cuccioli erano stati introdotti illegalmente in Italia dalla Romania. Erano stati caricati sull'autobus da una donna rumena di 40 anni, residente in provincia di Caserta, con l'intenzione di rivenderli in Italia. Questi cuccioli sono, come di consueto capita all'inizio dell'estate e non solo, sono un trasporto illecito, direi anche molto illecito. Quest'anno c'è stata questa via innovativa di trasportarli in pullman. Si fa solo del male e in questo modo, secondo noi, non si incrementa l'amore per gli animali, ma anzi. I cuccioli di neanche 12 settimane di vita sono Maltipù. La polizia di Stato ha sequestrato ed affidato i piccoli alle cure dell'Empa di Arezzo, mentre la donna è stata denunciata per traffico e maltrattamento di animali. In questo momento non sono adottabili e in ogni caso siamo sommersi di chiamate. L'invito è adottare cuccioli o comunque fare un acquisto responsabile? Senza dubbio, anzi approfitterei di voi oggi per farvi vedere un canino che è rimasto, perché il fratellino viene, la sorellina anzi viene adottata e quindi anche lui necessiterebbe di andare via insieme alla sorellina. La sorella ha trovato un'ottima famiglia, quindi facciamo un appello per lui. Cane buonissimo di circa 4 anni ed è veramente adottabile dai primi di giugno, carattere tranquillo.